Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata e la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per un valore complessivo pari ad oltre 209 mila euro nei confronti del CMO, Centro Medico Polispecialistico Plontino di Torre Annunziata e dei suoi amministratori di fatto, i quali sono indagati unitamente ad altri soggetti per i reati di truffa aggravata ai danni del sistema sanitario regionale, in particolare dell'Asla Napoli 3 Sud, di falso ideologico in atto pubblico e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali truffe. La suddetta misura costituisce l'esito di un'articolata indagine che ha preso le mosse da una segnalazione della medesima Asla Napoli 3 Sud riguardante la rilevazione di abnormi flussi di prescrizioni mediche e di particolari prestazioni di laboratorio ad alto costo, tutte eseguite tra il 2015 e il giugno 2016 presso il centro citato di Torre Annunziata. Dalle indagini è emersa l'esistenza di un collaudato sistema fraudolento, posto in essere dagli organi apicali del Centro Medico Polispecialistico Plontino e da taluni operatori sanitari, finalizzato, mediante induzione in errore della predetta Asla Napoli 3 Sud, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad alto costo, a conseguire un profilo illecito con corrispondente danno dell'Asla. Complessivamente quantificabile in 209.000 euro, effettivamente erogati, nonché in ulteriori 185.000 euro, la cui erogazione è stata invece bloccata. In particolare, la truffa aggravata posta in essere ai danni del sistema sanitario regionale, prevedeva da parte di alcuni compiacenti medici di medicina generale che agivano d'intesa con i vertici del CMO, la simulazione di campagne di prevenzione per il rischio cardiovascolare per il tumore al collo dell'utero, facendo leva sulla buona fede degli assistiti, ai quali venivano assicurati esami gratuiti presso il centro medico in argomento e finché la disponibilità di un vero e proprio servizio di accompagnamento a mezzo di navetta presso quest'ultimo. Nonché la prescrizione degli esami genetici mediante impegnative messe in assenza della necessaria visita specialistica, indicando fraudolentamente la prestazione come suggerita dai ignari medici specialistici. Tale sistema ha determinato l'aumento in maniera esponenziale delle prestazioni sanitarie ad alto costo da parte dei laboratori di genetica del CMO di Torranunziata, senza che i pazienti, sottoposti a tali esami, avessero sostenuto alcuno a preventiva visita da parte di un medico specialista che, per converso, avrebbe dovuto preventivamente prescrivere la relativa prestazione diagnostica. Le indagini hanno consentito di accertare un ulteriore tentativo di truffa ai danni del sistema sanitario ad opera del medesimo centro specialistico possa in essere fino al marzo 2017, finalizzato ad ottenere indebitamente rimborsi dall'ASL Napoli 3 Sud per un importo non liquidato di circa 230 mila euro per prestazioni sanitarie ad alto costo relative a pazienti oncologici.